Saluti ragazzi, sono Mattex e bentornati qui sul mio canale. Oggi torna il Parma e esce un altro episodio con la squadra crociata. Quest'oggi vedremo tre partite molto molto importanti per la classifica e ci sarà anche la Coppa Italia. Partiamo però ovviamente con il campionato. Avremo Inter, Juventus e Napoli. In campionato saranno tre scontri diretti fondamentali per questo campionato. Ovviamente poi ci saranno ancora tante tante altre partite, però oggi concluderemo il girone di andata. Sarà fondamentale vincere, portare appunti a casa perché sarà veramente molto molto importante per la stagione. In Coppa Italia affronteremo il Cagliari, intanto questi gli 11 titolari che andranno ad affrontare l'Inter. Ovviamente non c'è Jovic titolare perché è ancora un pochino infortunato. Vorrei portarlo magari nel secondo tempo da titolare. Vedremo se riusciremo a portarlo in squadra. Intanto la classifica attualmente è recita così con la Juventus prima, 45 punti. L'Inter sotto a 42, noi sotto a 41 e poi il Napoli a 39. Quindi bisogna fare attenzione. Tre squadre molto molto importanti che affronteremo oggi. Benvenuti allo stadio Ennio Treni di Parma per la prima sfida di questo episodio contro l'Inter. I Nero Azzurri svarcano quest'oggi a Parma per sfidare i crociati. Una stagione molto molto difficile per entrambe le squadre. Stanno facendo comunque fatica in campionato nonostante le tante vittorie messe a segno. Fin qui c'è la Juventus che è prima, che non lascia spazi, che non lascia ormai più tregua alle contendenti. Oggi due squadre che al momento stanno inseguendo la Juventus cercheranno di darsi battaglia per portare a casa tre punti che saranno fondamentali per la stagione. Vedremo due squadre sicuramente molto agguerrite. Intanto abbiamo visto anche i nostri scenderi titolari. Dopo andremo a fare il calciomercato perché anche qui comunque sarà importante andare a tappezzare un pochino la squadra. Comincia Parma-Inter, Guerrero fermato da Zalaccia, appoggia Wisniewski, Van de Beek intercetta. Ancora Van de Beek, la finta su Wisniewski. Lautaro, sinistro, Imenes spara e poi ancora Lautaro. Fa 1-0 per l'Inter, passa in vantaggio la squadra ospite. Qui Imenes poteva sicuramente far qualcosa in più sul secondo intervento perché poteva tranquillamente comunque gettarsi per poter prendere questo padrone. Vediamo qui il tiro con il Mancino, poi è stato fermo ad aspettare che arrivasse Lautaro Martinez. Qui ecco, forse andrei a sistemare questa cosa qua poi in FIFA 21, però vedremo. Zalaccio, Pineda. Aspetta ancora Zalaccio, prova il Mancino Zalaccio. Lunin parassicuro, tiro anche abbastanza facile da prendere. Lancia in avanti, invece è Martinez. C'è Socio però, Fontana. Ponce, deve saltare screen, salta anche violente. Ponce ancora, destro di Ponce che fa 1-1 e pareggia i conti. Il Parma con questo gol, con il ritorno al gol di Ezequiel Ponce perché da tanto che non lo vediamo esultare il nostro talento argentino. Vediamo qui il destro che batte l'unino, anche qui il portiere dell'Inter poteva fare qualcosina in più come Imenes nella prima occasione, nel primo gol dell'Inter. Intanto, secondo gol in Serie A per Ponce. Wisniewski deve saltare ancora Van de Vecchie. Traversione in mezzo per Ponce, c'è Skriniar che stacca di testa. Ora Socek interviene malissimo. Suo Llorente, a gamba tesa. Arriva l'arbitro minaccioso. Vedremo il colore del cartellino. Giallo. Giallo, qui intervento molto molto pericoloso. Intanto, penso Guerrero dietro ad applaudire in maniera un po' finta. Però andiamo a rivedere qui il fallo di Socek. Netto, Pineda. Tocca per Ricci, col mancino appoggia Fontana. Fontana deve saltare Gravion. Ci riesce, ancora Fontana. Fontana col mancino. La palla arriva a Lunin. E poi Ponce deve aspettare di tacco per Zaraccio. Zaraccio va finta su Skriniar, che però non riesce a saltarlo. Palla in corner. Ancora, altra grande occasione per il Palmer. Li diamo qui con Fontana. Scattato sulla fascia sinistra. Adesso Fontana a battere questo corner. Staccato in una riga. Ancora Marquinhos. Wesley prova a partire. Finisce qui. Però la partita sfida che termina. Con il risultato di 1-1 tra Parma e Inter. Buona partita. Buona prestazione del Parma. Mi sarei aspettato qualcosa di in più. Però è stato comunque un buon risultato. Contando che l'Inter è una di quelle squadre che potenzialmente potrebbe vincere lo squadetto. Assieme a Juventus e a noi. È stato un buon risultato. Simuliamo gli allenamenti. Scopo guarda tanto sarà al 70. Quindi adesso vedremo eventualmente poi magari dal prossimo episodio di cambiare gli allenamenti. Anche qui magari fatemi sapere nei commenti chi è andata ad allenare. Dei giovani sia della primavera che della prima squadra. Intanto Ricci è contento per aver giocato bene. E tra l'altro lui come ruolo squadra turn over. Quindi per quello che a volte dice. Ah comunque anche se non sono uno dei migliori della squadra vorrei giocare. Però appunto lì è probabilmente il più forte se non sbaglio come totale della rosa. Intanto aggiornamenti degli osservatori stiamo venendo piano piano. C'è questo Murat Onder. 56,76, 67,91. Che bestia! 1.100.000. Prendi subito. Mr. Mattox trova forse la chiave di volta di questa stagione. Chi lo sa. Però sembra davvero un gran gran bel giocatore. Poi anche qui andremo a seguirli piano piano. Perché adesso bisogna concentrarsi sulla prossima partita che sarà contro la Juventus. E qui sarà veramente veramente molto difficile. Io l'unica cosa prima però di andare verso la partita farei due mosse di mercato. La prima è richiamare Dennis Mann in patria. Richiamiamo giocatore che ha fatto veramente molto bene questa stagione. Non me lo sarei aspettato. L'ho messo in una lista a prestiti. Perché appunto avevamo davvero tanti 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 giocatori. Avevamo Borsolini e Bernadeschi sulla destra. Mann e Wisniewski. Poi alla fine Borsolini e Bernadeschi sono partiti. Le abbiamo venduti rispettivamente a Liverpool e Real Madrid. Quindi Mann torna alla Parma. E adesso ci manca solamente più un esterno sinistro. Se vi ricordate qualche tempo fa avevo fatto un sondaggio. Dove vi chiedevo effettivamente chi andare a prendere tra questi due giocatori. Che adesso andremo a vedere. Ognekuru e Kingsley Coman. Con il praticamente pieno dei voti. Quasi 90% per Coman. Andiamo a tentare di comprare il francese. Sarà una mossa di mercato che ad alcuni non piacerà. Posso anche capirlo. Però arrivati a questo punto della carriera. A questo punto della stagione. Non possiamo più andare a comprare giocatori diciamo sotto l'85. Perché dobbiamo puntare a vincere tutto. E comunque abbiamo 400 milioni per il calciomercato. Quindi l'investimento ci può stare anche farlo. Bisogna farlo però veramente nella maniera più corretta. Ruiz non piace. Quindi non andiamo a dare altri. Perché comunque sono tutti fondamentali per la squadra. Lui il valore è 62 milioni. Io tenterei un 70 diretto. Vediamo cosa risponde il Bayern Monaco. Sperando veramente in una risposta positiva. Perché Coman potrebbe davvero essere la mana del cielo per il nostro Parma. Potrebbe essere proprio il top player che ci consentirà di cambiare la stagione. Intanto 89 milioni. Ottantello. Quindi direi sul 75. Non andrei sopra l'80. Perché secondo me è un po' tanto comunque. Ancora 89. Io andrei a rilanciare sempre sul 77. 76, 77. Avanza. Anche se non riuscivo ad avanzare. Avanza l'offerta. 77, 8. Mi sembra un'offerta equa. Buono. Bayern Monaco dunque accetta l'offerta per Kingsley Comani. Intanto voglio giusto vedere una cosa assieme a voi. Esatto. Budget 400 milioni. Più 465 mila per gli stipendi. Intanto il bilancio è favorevole di 500 milioni. Quindi direi che a livello di finanza in questa stagione abbiamo fatto davvero davvero molto molto bene. Tra l'altro cuffie cambiate. Me le ha regalate per il complesso della HP. Davvero ottime. Magari vi lascio qualche link qui in descrizione. Sono davvero davvero ottime. E tra l'altro hanno un microfono estraile. Io in questo momento non ce l'ho perché sto usando appunto quello che uso di solito. Quello della postazione solita che vi lascio sempre da qualche parte in descrizione. Intanto accettiamo l'offerta. Che non prevede la causa decisoria. Ah no, io va bene. 160 mila. Si riduce di tanto lo stipendio. Accetta. E Kingsley Comani ragazzi. E' un nuovo giocatore del nostro Parma. 160 mila a settimana. Maglietta numero 7. Kingsley Comani. 88 di euro. 27 anni. E' un nuovo giocatore del Parma. Dalla primavera ci segnalano che uno giocatore è partito. Intanto c'è questo thruster che andiamo a rifiutare. E intanto Murat Onder è un 66. Sembra davvero un gran gran bel giocatore. E tra l'altro vale già appunto un milione. Quindi andrei a promuoverlo subito in prima squadra. Poi vedremo effettivamente quando andrà ad usarlo. Sicuramente non contro la Juventus. Purtroppo perché mi spiace. Vorrei provare tanti tanti giocatori. Però contro la Juventus dovremmo provare a fare la nostra formazione migliore. Per tentare di vincere questo scontro di rete. Intanto Ruiz vuole giocare. Dopo l'1-1 contro l'Inter il Parma torna in campo. E lo fa all'Allianz Stadium. Benvenuti a Torino per Juventus-Parma. Quest'oggi sfida molto molto importante al vertice del campionato di Serie A. Oggi il Parma cercherà altri tre punti. Cercherà altri tre punti perché contro l'Inter è arrivato solamente un pareggio. Pareggio anche per la Juventus contro il La Napoli. Pareggio che ha trovato entrambe le squadre nell'ultima giornata. Quindi oggi vedremo due squadre affamate di tre punti. Lei cerca della vittoria. Intanto una campagna da ricordare per Lukajovic. Previsione di gol 28. È scesa un pochino per via dell'infortunio. Ma cercherà di tornare a far bene. Cercherà di tornare ad incantare. Intanto comincia Juventus-Parma. Zarraccio allarga per Tennisman che sulla destra è tornato. Lui titolare. Tennisman ancora appoggia. Coman destro. Palo. Palo di Coman. All'e debutto dopo sette minuti contro, tra l'altro, la sua ex squadra, la Juventus. Gli diamo il destro. Deviato. D'Ector Bellerin poi sul palo. Andersen prova la finta. Non ci riesce. Però la palla arriva a Dybala che tocca per Giorginho. Ancora per Dybala. Jimenez riesce a parare. Forse anche Palo. Ma viene fischiato fuori gioco. E vediamo qui il tocco di Giorginho. Fuori gioco forse non c'è. Gerson Martinsa. Sua destra. Vola Gerson Martinsa. Cross in mezzo. Rezzos prova a spazzare. Ancora Dennisman. C'è Meijer. Delit. Dybala. Però la finta su Soce che lo salta anche su Rezzos. Salta anche lui. Prova il mancino Dybala. E fa 1-0. Dopo 53 minuti. La difesa del Parma crolla. E a passare avanti. E la Juventus. Gran gol qui di Dybala. Non possiamo metterlo in dubbio qui. Si vede comunque la Juventus guarda molto 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 forte. Però anche qui abbiamo fatto fatica con i difensori a trovare il tocco giusto. E poi di nuovo sul primo palo. Jimenez si fa sorprendere. Qui secondo me non è proprio un problema del portiere. Ma più del gioco. Zagadu. Cross in mezzo. C'è Toro una riga. Dybala. Poggio d'Asenzio. Dietro c'è Meijer. Quindi ancora Dybala. Le finte su Caldara. Riesce a saltare anche Caldara. Palla in avanti. E col mancino. Ciao a Z. E segna il gol del 2-0. E qui probabilmente la Juventus chiude la pratica Parma. Andiamo a rivedere qui l'ottimo passaggio in profondità per il compagno. Tocco col mancino. Palla che si infila. Dietro. Alle spalle di Jimenezia. E intanto anche qui sul primo palo. 2-0. Asenzio. Palla in avanti. Caldara perde il pallone su Ciao a Z. E a palla ancora lui. L'autore del 2-0. Fallo bruttissimo di Rezzos. Dettato forse dalla disperazione. Dalla tristezza per questa partita. Ma qui il fallo è netto. E arriva. Il cartellino rosso per Panagiotis Rezzos. All'ottantacinquesimo. Questo non ci voleva. Però non andrei a toccare troppo la squadra. Tanto ormai mancano solamente più cinque minuti. Andrei per rivedere il fallo. Eccolo qua. Palla lontana. E piede a martello. Rosso. Manzukic. Può ancora ripartire la Juventus. Tocca però dietro per Maierra. C'è ancora Manzukic sulla sinistra. Aspetta Di Bala. Finisce qui la partita. Termina 2-0 per la Juventus. Brutta sconfitta contro i bianconeri. Ci voleva sicuramente tre punti. Quest'oggi per il Parma. Ci può anche stare. Perdere contro la Juventus. Scuderà molto molto forte. Dovremmo però trovare qualche sicurezza in più. Più che altro a livello tattico. Perché secondo me dobbiamo ancora sistemare qualcosina. E proveremo già contro il Napoli. Simuliamo gli allenamenti. Come di solito. Intanto Medved sale al 64 di overall. Buono. Tra l'altro con questo giovane io vi annuncio che probabilmente questa sarà la nostra ultima stagione sulla panchina del Parma. Vedremo ancora come si metterà ovviamente il corso del campionato e della Champions League. Però non vorrei prolungarla troppo oltre questa carriera per evitare di rovinarla. Perché comunque abbiamo creato una squadra pazzesca. E secondo me questa è un po' la stagione della consacrazione. Al di là di cosa andremo a vincere e se ovviamente riusciremo a vincere qualcosa con il nostro Parma. Simuliamo la gara contro il Cagliari della Coppa Italia. Andiamo a vedere un risultato speriamo positivo. 2-0. Wisniewski e Ruiz. Ruiz comunque torna in campo dopo parecchio tempo. Torna anche in campo Sturaro. Entrato dalla panchina in questa partita. Adesso andremo a poi vedere la squadra che andremo ad affrontare per quanto riguarda la Coppa Italia. Probabilmente ci sarà già o nel prossimo episodio o eventualmente in quello dopo. Lombardi vuole giocare. Va bene. Ti faremo giocare. Intanto offerta per Saavedra. Sì accettiamo. 910.000 va bene dal volontari. Confitta contro la Juventus. Pareggio contro l'Inter. Oggi altro scontro diretto. Sempre più importante quello contro il Napoli. Benvenuti allo stadio Agnino Tardini di Parma per la sfida tra i crociati e gli azzurri. Oggi il Parma dovrà sicuramente cercare la vittoria perché il pareggio con l'Inter poteva andare bene. La sconfitta contro la Juventus forse un po' meno. E dunque bisogna recuperare punti. Bisogna recuperare terreno. Adesso il Napoli è sopra di noi in classifica. Quindi bisognerà per forza vincere se vogliamo mantenere la testa per lo scudetto. Bisogna faticare. Bisogna sicuramente vincere. E questo è il nostro Parma. Oggi torna anche in campo titolare Jovic. Jovic e soprattutto Kingsley Comane. Buona partita. Schlager. La raga per Fraser. Cerca spazi in mezzo. C'è il cross subito per Milik. C'è però Schlager col mancino. Jimenez con un miracolo. Evita. 1-0 del Napoli. Zielinski. La raga sulla sinistra e c'è Kingsley Comane. Siedito deve saltare Calero. Obiettivo del Parma nell'estate scorsa. Comane. Tocco per Zaracio. Col mancino. Zaracio. Fa 1-0 e il Parma passa in vantaggio con questo gran gol di Mattias Zaracio. Soprattutto grandissima azione in ripartenza del Parma con Comane che sulla sinistra è volato. Tocco per Zaracio. Col mancino non sbaglia. Fa 1-0 e si comincia bene questa partita. Nonostante ovviamente due partite molto molto difficili. Arriva il gol di Zaracio. Zaracio. Per De Pai. L'Alcana è per un compagno. De Pai però va da solo. Ancora De Pai. C'è Zaracio. Di nuovo col mancino. Ancora una volta. Mattias Zaracio. Fa 2-0 per il Parma. Doppietta personale. E al 24esimo minuto il Parma. E 2-0 sulla Napoli. Dopo due partite molto molto difficili della Parma. Arriva forse la partita del riscatto. Doppietta di Zaracio. 2-0 per il Parma. Al 24esimo minuto. Sesto gol in questa serie per Zaracio. Solo cerca Jovic. Ha il volo allarga per Denisman. Che stoppa. Denisman salta Firpo. Con una finta. Tocca per Jovic. Col mancino Jovic. Non sbaglia. E torna a segnare. Luka Jovic. Obiettivo di gran interesse per il Milan. Nella realtà. Luka Jovic nel nostro Parma sta ancora incantando. E' tornato ad incantare. Dopo un inizio clamoroso di Luka Jovic. L'infortunio poi l'ha fermato. Per tre settimane. Adesso però. Torna il gol. Torna una buona prestazione di Luka Jovic. Dopo quella contro l'Iventus. Un pochino in sordino. Dobbiamo dirlo. Zaracio. C'è De Pae che chiama palla. C'è anche Jovic che si inserisce alle spalle. Servito. Jovic. Col mancino Jovic. Jovic. Ancora una volta. Luka Jovic. 4-0 per il Parma. Oggi una partita spettacolare. Dei crociati. Quella del riscatto ci voleva. E bisognava sicuramente farla contro il Napoli. Perché il Napoli era riuscito. Per via delle vittorie. Della squadra. E per ovviamente le sconfitte. E il pareggio. Della Parma superare i crociati in classifica. Qui però arriva il secondo gol di giornata. Per Luca Jovic. Doppietta di Jovic. Doppietta di Zaracio. 22 in Serie A. Per l'ex giocatore dell'Eintracht. Francofort. E assist anche. Ovviamente di Zaracio. Tutino. Correa. Tocco per Elmas. Che ha spazio per tirare. C'è Torunrega però a fermarlo. Baccio Ai. Ancora per Elmas. Denisman però chiude. Jimenez non riesce ad uscire. Tocco sbagliato. E arriva il gol di Elmas. 4-1. E il Napoli segna il gol della bandiera. L'83esimo. Qui errore clamoroso. Di Jimenez. Che non riusciva. Ad uscire a prendere il pallone. E poi. Nel momento in cui è riuscito ad uscire. Anziché prendere il pallone con le mani. Ha toccato col filtrante. Che ha provato ad uscire col parriere con triangolo. Poi invece che uscire ha fatto l'infiltrante. Lozano. Hermoso. Firpo. Giro palla del Napoli. A perdere tempo. Finisce qui la partita. 4-1 per il Parma. Il Parma sbanca. Legno Tardini trova. La vittoria ritrova. Tre punti fondamentali in campionato. Dopo il pareggio con l'Inter. E la sconfitta contro la Juventus. Torna una vittoria molto importante. Perché arriva comunque contro il Le Napoli. Una squadra pretendente al titolo. E quindi. Arriva. Tre punti fondamentali. Inquadrato anche Denis Mani. Che ha fatto. Di nuovo. Una grandissima partita. Dunque. Stop. Delle trattative per. Carlos Saavedra. Peccato. Andiamo a vedere magari. Effettivamente come cederlo. Eventualmente. Intanto Lindelof. Dice che è completamente distabilito dall'infortunio. Quindi bene. Questo è un buon segnale. Contro la Roma potrebbe già giocare. Vedremo nel prossimo episodio. Intanto. La Juventus è ancora prima. Con 52 punti. L'Inter sotto 49. Noi 45. E Napoli a 43. Poi c'è anche il Milan. Da fare attenzione. Perché ha 41. La prossima sarà Inter Atalanta. Napoli Torino. Parma Roma. Ci sarà Juve Spal. Quindi. La vittoria da Juventus. È quasi certa. Perché comunque la Spal è 19esima in classifica. Però vedremo. Vedremo nel prossimo episodio. Mai dire mai. Intanto noi vedremo. Roma. Torino. Fiorentina. E ancora una volta Napoli. Tre partite di nuovo fondamentali per il campionato. Nell'episodio poi successivo potrebbe esserci la Champions League. Vedremo anche come si diventerà la Coppa Italia. Intanto ovviamente vi invito a farmi sapere cosa ne pensate di questo video qui sotto. Nei commenti. Vi invito a lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto. E vi ricordo che stiamo portando un giocone pazzesco come The Last of Us 2 in live. Vi lascio ovviamente il link del mio canale del live qui sotto in descrizione. Anche del canale Telegram per rimanere sempre sempre aggiornati. Mi raccomando passateci perché è fondamentale per il proseguimento del canale. Ci vediamo alla prossima sempre qui. Mi raccomando non perdetevi il live video. Alla prossima. Ciao ragazzi.